Questo giorno doveva arrivare, ero consapevole che prima o poi avrei dovuto parlarvene, finalmente eccomi qui. Cosa ne penso della questione traduzione Alliata vs Fatica? È una delle domande che mi avete fatto più spesso, sia direttamente chiedendomi proprio Frank, cosa ne pensi al riguardo, sia indirettamente chiedendomi invece pareri sulla migliore edizione da acquistare, domanda che ha ovviamente come sottotesto Alliata o Fatica. Ebbene, è arrivato finalmente il giorno, quindi finalmente il vostro Frank di quartiere vi dirà cosa ne pensa al riguardo. Prima però voglio spiegarvi perché ho atteso tanto tempo prima di darvi la mia opinione. Rispetto ad altri utenti del web che si sono limitati a leggere magari il primo capitolo o qualche frase della traduzione Fatica, o addirittura a leggere semplicemente quello che pensa la gente sul web e quindi a farsi un'idea da quello, senza nemmeno provare a leggere l'edizione Fatica, io mi sono letto e riletto l'edizione Fatica almeno tre volte. E nel mezzo ho dato anche una rapida rilettura a quella Alliata, in modo tale da notare con maggior freschezza le differenze tra le due traduzioni. Tra l'altro ho dato una lettura anche a un piccolo saggio italiano, di cui non vi parlerò in questo video, ma in un altro in futuro, che parla proprio delle difficoltà di tradurre Tolkien in italiano. Quindi, come giusto che sia, dato che questo è un canale di divulgazione che ritengo abbastanza serio, negli intenti almeno, poi nei modi non mi sono mai ritenuto una persona seria, o quantomeno non mi prendo troppo sul serio, come invece fanno certi miei colleghi, pensando che la qualità dei contenuti sia direttamente proporzionale alla serietà con cui li trattano, cosa altamente sciocca da pensare. E il lavorone che sta facendo il caro Trono del Muori con il Silmarilio ne è la prova evidente. Quindi, mi sono preso il tempo per analizzare, per pensare, per leggere, per riflettere, per parlare anche con persone che lavorano, hanno lavorato su questa traduzione, e non ho voluto lanciarmi nel dibattito, o chiamiamola guerra, del momento, senza consapevolezza dell'argomento, e solo magari per cavalcare l'onda del momento. Quindi, al di là di quella che sarà la vostra opinione, sull'opinione che esprimerò io in questo video, apprezzate quantomeno l'impegno. E non si può parlare di questa faccenda senza fare un po' di storia. In particolare, vediamo brevemente qual è la storia di queste due traduzioni, Alleata e Fatica. La traduzione di Vittoria Alleata è stata pubblicata la prima volta nel 1970, dalla casa editrice Rusconi. All'epoca, Il Signore dei Anelli non era ancora il fenomeno globale che è oggi. E la pubblicazione in Italia rappresentava, sottolineo, all'epoca, un rischio bello e importante, che proponeva un'opera di nicchia, all'epoca, ripeto, destinata a un pubblico, diciamo, di appassionati di letteratura fantasy. Inoltre, Alleata iniziò a lavorare alla traduzione quando era ancora molto giovane, all'incirca diciottenne. Ma bisogna anche dire che, nonostante la sua giovane età, accettò questa impresa immane di tradurre un'opera così complessa e per farlo scelse uno stile molto specifico, uno stile chiamiamolo lirico, e prendendosi anche libertà belle e importanti sui nomi propri e sui termini tolkeniani. E quindi, ad esempio, alcuni nomi dei personaggi e luoghi furono adattati per renderli più familiari e piacevoli al pubblico italiano. E questa traduzione fu apprezzata proprio per questo stile evocativo e poetico, che cercava di, diciamo, catturare in questo modo la magia e l'epicità originale dell'opera di Tolkien. Ma sappiamo che la memoria non è proprio il forte del popolo italiano. E bisogna, infatti, anche dire che alcuni appassionati e studiosi dell'epoca criticarono la traduzione alleata perché sembrava allontanarsi fin troppo dall'opera originale. Poi, col tempo, con gli anni, con i decenni, con i film, ed avendo anche il monopolio del Signore degli Anelli in Italia, essendo infatti l'unica traduzione disponibile fino a qualche anno fa, è ovvio che le persone si siano affezionate, legate a questa traduzione, e che alcuni abbiano proprio sviluppato un certo attaccamento morboso. E quando gli chiedi, infatti, il motivo, quasi sempre è perché sono presenti gli stessi nomi dei film, parliamoci molto chiaramente, e quindi è un legame costruito non tanto sulla qualità intrinseca della traduzione, ma su elementi affettivi legati, appunto, ai film. Poi, lungi da me, generalizzare, ovviamente. Però, quasi sempre, le persone con cui mi sono confrontato mi hanno fatto capire esattamente questo. Ora, come si è arrivati ad avere la nuova traduzione fatica. Su questo punto devo fare qualche precisazione. Io ho avuto la, chiamiamola fortuna, o forse sfortuna, di parlare con persone che fanno parte di una certa associazione, e che hanno lavorato direttamente su questa traduzione. E nel tempo queste persone mi hanno rivelato un po' di cose in merito alle motivazioni che hanno portato la Bonpiani a prendere determinate decisioni. Non mi sento di rivelare chiaramente queste informazioni, sia perché non posso averne la certezza, dato che sono, appunto, parole dette in conversazioni private, e quindi non hanno alcuna certificazione di verità. Sia perché non mi sembra nemmeno giusto rivelare certe cose, dato che sono emerse, appunto, da conversazioni private. E quindi mi limiterò a dirvi che tra Bonpiani e Aliata è sorto, diciamo, un conflitto. Cosa che è abbastanza evidente anche da quello che è accaduto pubblicamente, dato che Aliata ha espresso pubblicamente il suo disappunto è sulla scelta della Bonpiani di sostituire la sua traduzione. Ripeto, è solo la punta dell'iceberg e in realtà, stando a quello che mi hanno detto, potrebbe esserci molto, ma molto, ma molto di più. Fatto sta che Bonpiani, nel 2019, decide di commissionare una nuova traduzione al professor Ottavio Fatica. Rispetto alla Aliata di oltre 50 anni fa, che, come abbiamo detto, era molto giovane, quindi non aveva ancora questa grande esperienza nel campo, Fatica, quando gli è stato commissionato questo lavoro, aveva già una grande esperienza ed era rinomato nel suo campo, in particolare per la sua capacità di rendere in italiano la complessità e le sfumature di testi letterari importanti. Quindi diciamo che Bonpiani non si è di certo rivolta a uno qualunque e Fatica, per il suo lavoro, sceglie un approccio un po' diverso rispetto all'Aliata, molto più rigoroso e, diciamo, filologico nella sua traduzione, cercando di mantenere quanto più possibile la fedeltà al testo originale di Tolkien. E questo significava anche rispettare non solo il contenuto, ma anche lo stile, il tono, le intenzioni dell'autore. E vi ricordo che gli eredi di Tolkien e la Tolkien Estate hanno espresso da sempre il desiderio che le traduzioni delle opere di Tolkien fossero il più possibile aderenti a quella originale, alle originali. Chissà però perché con Amazon non si sono fatti tanti problemi. Chissà perché. Inoltre, Fatica ha anche dato grande attenzione alle sfumature linguistiche, cercando di riprodurre la varietà di stili e di registri presenti nel testo di Tolkien. E questo si è tradotto in cosa? Che mentre nella Alleata tutti i personaggi sembrano parlare allo stesso modo, sembrano avere lo stesso registro linguistico, lo stesso vocabolario, si esprimono allo stesso modo, cioè in modo molto aulico e poetico, il che potrebbe sicuramente piacere a una parte dei lettori, ma da un punto di vista tecnico, non solo di traduzione, ma proprio narrativo, non è propriamente corretto. Perché sentir parlare Senvise Genji, quindi un giardiniere della Contea, come Elrond, uno degli elfi più antichi e acculturati di Arda, fa un po' strano perché ti chiedi come è possibile una cosa del genere. E queste differenze di caratterizzazione, perché poi è quello che si tratta, sono state messe bene in evidenza nella traduzione fatica, mentre in quella alliata queste differenze erano state molto appiattite. E da quello che sto dicendo, uno potrebbe pensare Eh Frank, ci hai deluso, sei a favore di fatica, bla 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 bla. Momento. 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 Fino ad ora ho fatto considerazioni prettamente tecniche, e nemmeno più di tanto. Ma ora farò delle considerazioni un po' più generali, vedendo la questione non più da un punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dei lettori, e quindi del pubblico. Quando tu hai il compito di tradurre quello che è diventato il testo di riferimento della letteratura di genere fantasy, è uno dei testi più importanti del ventesimo secolo, nonché testo che ha ispirato una delle più grandi opere cinematografiche della storia del cinema. Non puoi. Non puoi fare considerazioni esclusivamente tecniche. Ma devi tener conto anche del pubblico che riceverà quel tuo lavoro. Con questo cosa intendo che se da un punto di vista tecnico-linguistico la traduzione fatica può essere più corretta di quella aliata, cosa su cui mi trovo abbastanza d'accordo, almeno a grandi linee e da non linguista, per i motivi che ho espresso prima. È anche vero che, cambiando specifici nomi a cui le persone sono estremamente legate, del tipo ramingo che è stato tradotto in forestale, o anche puledro impennato che è stato tradotto in cavallino in alberato e vari altri nomi che non sto qui ora a farvi una lista completa, magari la analizzeremo in futuro in una live così da fare una discussione un po' più corale. Ma se cambi determinati nomi a cui le persone sono particolarmente affezionate, non per considerazioni tecniche, ma perché le ascoltano o li leggono, li rileggono da anni, da decenni, magari li hanno scoperti per la prima volta con il film, quindi hanno con quelle parole e un legame così potente da scatenare in loro il risentimento o addirittura l'odio, ebbene, tu a quelle persone gli cambi quelle parole, magari anche con intenti lodevoli, cioè essere più fedele al testo, ma ignorando totalmente la questione affettiva, che tipo di reazione ti aspetti? È come se, dopo 36 anni di vita, dopo aver creato un legame col mio nome Francesco, mia mamma venisse da me a dirmi Francesco, guarda che ti ho cambiato il nome in Vittorino, perché mi sono resa conto che Francesco non funziona, non è abbastanza corretto. Ovviamente la mia reazione potrebbe non essere così garbata con tutto che è mia madre e potrei prendermela molto seriamente, quindi, dal mio modestissimo parere, il vero errore, non l'unico, dato che non sto dicendo che la traduzione fatica sia perfetta, ma il più grande errore che hanno commesso, è stato distruggere il legame affettivo della stragrande maggioranza dei lettori con determinati nomi della traduzione aliata e solo ed esclusivamente per il bene della fedeltà linguistico-filologica. E so che dicendo queste cose anche io mi sto attirando tutta una serie di critiche da entrambe le parti, critiche che posso già immaginare del tipo i sostenitori dell'aliata potrebbero dirmi Frank, ma non è solo quello il problema, la traduzione non è comunque corretta, ci sono degli errori e a queste persone rispondo non esiste una traduzione corretta. La traduzione perfetta è una aspirazione idealista che non esiste nel mondo reale perché già l'atto di tradurre delle parole da una lingua a un'altra è un atto scorretto perché non puoi riportare gli stessi suoni, lo stesso significato del linguaggio originale, è impossibile. quindi il solo atto di tradurre rende la traduzione scorretta. Poi sicuramente come ho detto ci sono degli errori, ci sono delle lacune, ci sono dei problemi in questa traduzione fatica anche da un punto di vista tecnico, ma dal mio punto di vista per quanto possa apprezzare di più quella aliata per suono, per cadenza, per tono, quella fatica ha degli intenti tecnicamente più corretti e in alcune cose è riuscita ad essere migliore di quella aliata, ad esempio nella gestione del tono e dei registri linguistici come ho già detto. Dall'altra parte invece abbiamo i sostenitori di fatica che potrebbero criticarmi dicendo ma friend, non si può sacrificare la fedeltà tecnica all'approccio accademico scientifico bla 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 per accontentare il pubblico. Non è la domanda che deve plasmare l'offerta e tante altre cose su cui potrei essere d'accordo se ci trovassimo in campo scientifico. Ad esempio sapete che ho fatto studi di medicina e quindi è ovvio che se qualcuno mi venisse a dire eh ma questa medicina ha un sapore schifoso avrebbero dovuto farla più dolce più piacevole per le persone ma magari quella medicina è amara è aspra perché il principio attivo più efficace ha quel sapore e non si può cambiare allora queste persone le accompagnerei alla porta di servizio e la stessa considerazione potrei fare per tutti gli altri campi dove la correttezza e la fedeltà scientifica deve avere la priorità assoluta sull'opinione delle persone ma senza sminuire ovviamente ci mancherebbe il campo linguistico in questo caso ci troviamo in un campo diciamo creativo artistico e non in un campo matematico scientifico e dato che una traduzione di un testo in lingua straniera viene fatta unicamente ed esclusivamente per venderla al pubblico e non per tenerla segregata in una cassaforte universitaria come grande traduzione super fedele al testo originale tu devi devi tener conto anche del gusto del pubblico e di come quel pubblico recepirà determinati cambiamenti non puoi ignorare questa cosa perché a meno che Fatica non ha fatto quella traduzione solo per il gusto personale di farla cosa che ovviamente non è vera dato che non è una traduzione libera e gratuita ma Fatica è stato ingaggiato dalla Bonpiani per farla e quindi per vendere poi quella traduzione al pubblico quindi tu non puoi ignorare quello stesso pubblico che ha motivato l'esistenza della tua traduzione e io non posso credere che Bonpiani Fatica o la squadra di super esperti che hanno lavorato con loro compresa una certa associazione ignorassero quale sarebbe potuta essere la reazione del pubblico cambiando determinati nomi a cui quel pubblico era molto affezionato e vabbè Frank allora dacci tu la soluzione cosa avrebbero dovuto fare semplice avrebbero dovuto trovare un compromesso tra maggiore fedeltà linguistica e il rispetto del legame che il pubblico aveva e ha ancora oggi con determinate parole nomi che si sono radicati nell'inconscio di queste persone quindi bisognava trovare un compromesso cosa che non è stata fatta magari anche perché la Bonpiani ha voluto creare una cesura molto importante e radicale con la traduzione alleata operazione che a mio parere presenta anche qualche risentimento fin troppo personale e mi fermo qui proprio perché come ho già detto non posso rivelarvi nulla di più quindi andando alle considerazioni finali partendo dal fatto che ho intenzione di fare una live in cui analizzeremo la lista completa dei nomi originali realiata e fatica e a tal proposito chiedo se ci sono traduttori linguisti in ascolto contattatemi magari su Instagram o tramite email e se volete sarete invitati a partecipare a questa live dove mi piacerebbe appunto avere anche delle opinioni di esperti di tecnici del settore quindi aspettatevi questa cosa nel immediato o comunque nel possibile futuro e la mia considerazione finale è la seguente è stata fatta un'operazione scorretta non tecnicamente parlando ma diciamo commercialmente per i motivi che vi ho illustrato nel video avrebbero potuto scegliere una via più moderata nella fedeltà al testo originale e di certo Tolkien non sarebbe tornato dalla tomba come non è tornato nemmeno per quella grande opera di Amazon e con questa via moderata avrebbero potuto comunque distaccarsi da alliata ma accontentare anche il pubblico purtroppo è stata invece scelta una via estremista e il pubblico l'ha rigettata perché alla stragrande maggioranza del pubblico dei lettori e ora mi rivolgo proprio a fatica alla Bompiani all'associazione responsabile che ha lavorato su questa traduzione amici della Bompiani fatica e amici dell'associazione non potete ignorare totalmente il gusto e l'opinione dei lettori se quello che fate è rivolto esclusivamente a loro non potete farlo a meno che non proponete quello che fate come una donazione se la Bompiani avesse fornito questa traduzione gratuitamente nessuno vi avrebbe potuto dire nulla ma dato che questa traduzione viene venduta a prezzi decisamente alti tra l'altro in edizioni di scarsa qualità è ovvio che le persone vi abbiano criticato che abbiano criticato il vostro lavoro e abbiano boicottato questa traduzione quindi se volete i miei consigli finali se siete legati in modo particolare ai nomi presenti nei film o a quelli con cui magari siete nati cresciuti e pasciuti rivolgetevi semplicemente al mercato dell'usato troverete sicuramente ancora qualche edizione a prezzi accessibili se invece non ve ne frega nulla dei nomi dei film e magari siete anche dei nuovi lettori allora prendete tranquillamente l'edizione fatica e questo è il consiglio più onesto che posso darvi detto questo sono ovviamente aperto alla discussione sia con voi sia con terze parti che magari avranno da ridire sulle mie considerazioni l'importante è che eventuali critiche e riflessioni su quello che ho detto vengano fatte con toni civili quelli che io ho avuto all'interno di questo video mentre tutto il resto quindi insulti denigrazioni e via dicendo verranno ovviamente cestinati e penso di aver detto abbastanza io mi fermo qui noi ci vediamo prossimamente da Frank è tutto ciao ragazzi